Buongiorno a tutti, sono Luca Angeli, sono il direttore della riabilitazione all'ospedale di Iesolo San Donà. Perché vaccinarsi? Uno, perché per molti anni abbiamo fatto finta di non vedere cose molto gravi che capitavano con molte malattie. Due, perché da molti anni, da quando ci vacciniamo in maniera costante, è migliorata la nostra qualità di vita e anche quanto possiamo vivere e vivere meglio. Quindi la domanda non sarà se devo vaccinarmi, ma perché non devo vaccinarmi e sarebbe un grosso errore non farlo.